C'era il gota del centrodestra territoriale, regionale e nazionale, stretto attorno alla candidatura dell'ex dirigente comunale Grazia Cosentino. Ieri la convention, tanto annunciata, si è aperta con un minuto di silenzio in onore di Domenico Lorefice, Kevin Provinzano ed Emanuele Campo, vittime sabato di terribili incidenti stradali. Poi un lungo applauso ha dato il via all'evento, fortemente ridimensionato proprio per rispetto di quanto accaduto sabato in città. Dalla convention di ieri è evidente che il centrodestra cerchi di mostrare i muscoli in città. L'area si è spaccata, da un lato i partiti ufficiali, oltre ai moderati di Italia Viva che scommettono sul responsabile tecnico di impianti SRR. Dall'altro invece alleanza per Gela con il consigliere comunale Salvatore Scerra. È inevitabile dunque che i partiti si giochino molto e per questo sul palco, oltre al governatore Schifani, c'erano anche i deputati nazionali e regionali in riferimento della coalizione. Dal forsista Michele Mancuso a Renziano Davide Faraone, fino ai deputati meluniani Carolina Varchi, a sua volta già assessore designato in città, ed Eliana Longi. Sul palco anche il segretario nazionale della DC Totò Cuffaro. Tutti affare quadrato attorno alla Cosentino, che davanti alla platea di sostenitori ed esponenti di partito ha richiamato lo spirito di servizio della sua candidatura. San Francesco, Seneca e Don Luigi Surso sono state le citazioni che l'ex dirigente comunale ha riportato nel discorso letto durante l'intervento, con un invito al Governo nazionale e la Regione a impegnarsi per una legge salvagela che aiuti la città a guadare senza troppe difficoltà il pantano del dissesto. Un invito raccolto immediatamente dal governatore Schifani. La Regione farà la propria parte, sicuramente, lo farà la propria parte come farà la propria parte nei confronti di tutti i comuni quali hanno chiesto alla Regione un ristoro per i maggiori costi, per l'invio dei rifiuti all'estero. C'è un impegno di questo Presidente di ristorare questi comuni entro il 30 giugno, vi è stata una prora per questi adempimenti grazie al Governo nazionale che a livello parlamentare nazionale ha prorogato questi termini. Noi contiamo di fare la nostra parte, onorare l'impegno e rimborsare questi comuni, così come ho confermato il Presidente del Lancio. Faremo di tutto anche perché i segnali, devo dire, lo dico molto sommessamente, ma i segnali di quello che è una crescita economica della nostra terra anche in termini di aumento delle entrate fiscali lasciano ben sperare. Schifani ha anche parlato degli interventi che la Regione ha intenzione di attivare per fronteggiare la crisi idrica e ha annunciato l'arrivo in Sicilia di Giorgia Meloni e la firma sui fondi FSE per fare sistemare i distillatori, tra cui quello di Gela. Non riusciremo certo a recuperare il mancato funzionamento del distillatore di Gela, così come quello di Portempero e Trapani, ma sono entrambi inseriti nell'accordo di programma del Fondo Sociale di Coesione che firmerò a giorni con il Presidente del Consiglio e quindi già abbiamo un piano per riattivare questi tre distillatori in mani tale che l'anno prossimo tutti e tre possano funzionare. Il guanto di sfide è ormai partito, il centrodestra lo lancia ai suoi competitor mostrando numeri e muscoli che ovviamente però vanno ancora tradotti in consenso e voti.